Amici di Costaviola News, buongiorno. Stamattina siamo con Adone Pistolesi, leader di Rinascita per Bagnara e arriva da un Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale molto importante dove si è approvato il bilancio e tanti altri punti. Tra l'altro in questo Consiglio Comunale c'è stato l'esordio della nuova, tra virgolette, amministrazione a seguito del rimpasto o del rimpastino, come lo si vuole chiamare, effettuato dal Sindaco. Buongiorno e grazie per l'invito. Sì, è successo tanto il 29 settembre scorso e sono tutti argomenti e temi che toccano sia dalla tasca dei concittadini, per l'aumento che c'è stato comunque per bocca dell'assessore al bilancio di solo, in bontà sua 8 euro ogni 100 e poi c'è stato molto altro. Parliamo 0,80 dell'Imu sulle seconde case. Sì, così ha detto lui, ha annunciato e nelle carte noi abbiamo letto un 11.04, ma detto questo poi tutto si tramuta in soldi in più che i concittadini dovranno pagare. Partiamo da alcuni dati politici intanto. Era il primo consiglio comunale, a seguito del rimpastino, così come lo vogliamo chiamare, alla fine tutto si è concretizzato in un cambio. Fuori la dottoressa Angela Randazzo e dentro invece Concetta Zoccali. Tra l'altro le altre deleghe non sono state toccate. C'è stato qualche delega che ha ricevuto in più Spoleti, Michele Spoleti, però tutto sommato gli assessori uscenti e poi rientranti hanno mantenuto le deleghe. Unico cambio, la Zoccali per l'arrandazzo. Tra l'altro all'inizio del consiglio comunale si è un po' dibattuto su questo, anche un po' scadendo nella discussione. Diciamo che per ricostruire che si parte da lontano dal consiglio comunale precedente di agosto scorso, quando ci fu quell'interruzione così chiamata dal vice sindaco tecnica di 5 minuti, che poi durò all'incirca una mezz'oretta, dove l'altra opposizione, che era in quel momento almeno un'opposizione in consiglio comunale di Uniti per Crescere, si appartò con quello che resta di Bagnara Benecomune, con il sindaco e tutto il resto che era presente quel giorno. Dopodiché ci fu quella dichiarazione di prima zeramento e poi addirittura anche di eventuali dimissioni, che lasciarono lo spazio a 15 giorni di vari contatti. Io ne ebbi solo uno con il sindaco e anche su quello io ho parlato in consiglio comunale, dove con il sindaco Frosina ci siamo detti tanto in quell'incontro. Però tutte le premesse e tutto quello che sembrava un'altra impostazione che il sindaco avrebbe dato corso è andata a finire dove già si pensava. Quindi a un finto azzeramento, a un semplice rimpasto con una sostituzione di una figura all'interno di un'altra, che poi anche politicamente sposta il quadro di questa coalizione lontano da quelle che erano le premesse anticipate in campagna elettorale, di lista civica, di lista di centrosinistra, mentre è chiaramente, palesemente sbilanciata a destra, e non si discute questo, con quello che stava dicendo lei della votazione anche in consiglio comunale di punti essenziali dell'ordine del giorno, dove uniti per crescere, per scelta, loro hanno detto alla consigliera Parello che si parla che non è inciugio, non è nessuna pantomima, nessuna cosa impropria, ma hanno parlato di strategia politica, di strategie. Questo l'ha detto anche la consigliera Parello che è un modo di fare di politica che è fatta così, all'interno di un consiglio comunale e poi che va a scadere in un accordo con quello che abbiamo visto, ha visto la cittadinanza, è un qualcosa che non ci appartiene, mi sia permesso di... Da questo consiglio comunale viene fuori una nuova geografia dello stesso consiglio, abbiamo tre ex Bagnara Benecomune che, viste anche le votazioni, si sono collocati all'opposizione, poi abbiamo, rinascita per Bagnara, da sempre, insomma, battaglia sui temi di opposizione, poi una maggioranza di otto più uno, Bagnara Benecomune, con qualcuno che ha definito, uniti per crescere, stampella di questa maggioranza. Questa è più o meno la nuova geografia. Ma più che stampella, dal voto si evince che c'è quantomeno... La correttezza erano 16 punti, su 14 hanno votato con l'amministrazione comunale, due si sono astenuti, dico bene. Sì, questo riepilogando dici bene, e quindi nei fatti, nelle scelte anche, sono stati conseguenziali in una condivisione, quindi questo è un esperimento, forse tutto bagnarese, che dovrebbe essere conosciuto secondo me anche dalle segreterie nazionali, non da quelle regine, perché è un qualcosa di anomalo, che secondo me anche all'interno della sinistra identitaria, universalista come alcuni si definiscono, della destra reale, la destra vera, sicuramente non sono di questa visione, non sono per questo tipo di accordo e ci sarebbe da capire anche se la segreteria politica del PD condivide questo percorso che è lontanissimo da quelle che sono invece le basi identitarie dei vari partiti. C'è da dire questo, che anche sul rimpasto, su questo rimpastino, su questa sostituzione, le polemiche non sono mancate, insomma tutto qua viene da dire. Anche se il sindaco, forse questo è passato un po' in secondo piano, ha detto in Consiglio Comunale che aveva contattato dei soggetti esterni e che questi avevano declinato dicendo che siamo a fine legislatura, se fosse stata all'inizio eccetera eccetera. Cioè c'è stato secondo te questo tentativo da parte del sindaco? Io non posso smentire le parole del sindaco, quindi devo credere a quello che ha affermato, se siamo persone serie uno deve credere a quello che si dice in Consiglio Comunale e quindi assolutamente non c'è motivo di poter dire, non ho elementi, ho ascoltato e ne prendiamo atto. Ma questo è un discorso che ancora più rende alla cittadinanza la comprensione che tutto quello che si era detto in presentazione della lista Bagnare Bene Comune, che c'erano le competenze, che c'erano le conoscenze, che c'erano tutte le possibilità per poter dare a questo Paese da 40 mesi attenzione. Si parlò di inizio del liceo all'epoca, se ricorda pure lei, si parlò di inizio del liceo entro dicembre 2017, qua siamo quasi a quattro anni e si parla ora di pareri acustici che abbiamo ascoltato e anche lì ho approfondito quell'argomento con le persone competenti di quello che avete ascoltato anche voi. Alla fine, io l'ho detto in Consiglio Comunale, poi naturalmente ognuno fa la sua parte e dice quello che pensa legittimamente, ad oggi abbiamo un solo elemento effettivo, la riapertura della discarica di Meli Cucca. Su questo ci andiamo tra poco, concludiamo con quello che è l'aspetto politico, vince su tutta la linea la politica portata avanti dal Vice Sindaco perché aumenta i componenti di Forza Italia in giunta, allarga la maggioranza e solidifica un rapporto con il Sindaco che probabilmente porterà questa maggioranza fino alla fine della legislatura, quindi vince la linea del Vice Sindaco e di Forza Italia. Nei fatti è palese questo, io anche nel nostro incontro con il 30 di agosto, con il Sindaco, io parliamo di questi argomenti politici che sono importanti anche in prospettiva e io dissi al Sindaco che praticamente lui stava consegnando con le scelte che faceva il Paese a una prospettiva e lui stesso diceva sì, non posso dire cose che mi ha riferito però condivideva che questo non era un percorso che a lui stava bene, almeno come sua impostazione ideologica lineare di tutta la sua vita che è stata a sinistra e quindi poi nei fatti purtroppo vediamo perché se a lui non stava bene questo discorso poteva trarne le conseguenze che aveva detto pubblicamente in Consiglio Comunale e dire no, questo percorso non posso io fare da notaio a un atto politico che è lontanissimo da quelle che sono le mie impostazioni, il mio credo politico e avrebbe dovuto fare ben altra scelta per quanto mi riguarda. Cominciamo adesso invece dai problemi, rifiuti. Reggio Calabria è stata al centro della campagna elettorale vinta da Falcomata la discarica alla Zinghara, insomma sembrerebbe che questa discarica risolverà tutti i problemi della città di Reggio Calabria e Falcomata su questo ha puntato molto. C'è stata una mozione votata in Consiglio Comunale da Rinascita per Bagnare, il Sindaco ha messo il ritardo di questa trasmissione, di questa mozione alla città metropolitana, sta di fatto che i lavori stanno andando avanti, ci sono delle associazioni che stanno scendendo in campo per far capire meglio alla popolazione a cosa andiamo incontro, rinascita su questo problema c'è da tempo e come vedi tu da questo punto di vista il futuro per quanto riguarda i rifiuti e per quanto riguarda anche la discarica? Io su questo argomento prima una premessa, per me è d'obbligo, non si discute per quanto mi riguarda che le figure di Falcomata e Minicucci, ob torto collo, io opto per una figura che sicuramente malgrado questo atto contro il Paese, contro il nostro territorio, è una figura più assolutamente differente, che la trovo più vicina, diciamo, con tutti i limiti e tutte le contraddizioni che ha avuto, anche perché è da dire, bisogna essere onesti, che la questione rifiuti viene dopo sei anni di sindaco metropolitano e cinque anni di centrosinistra che avevano ereditato l'emergenza spazzatura dall'amministrazione Scopelliti e hanno lasciato quello che avevano trovato in pratica, quindi ci sono gravissime responsabilità politiche, ma tra le due figure, se dovevo scegliere il male minore, o non votavo o avrei votato Falcomata. Detto questo, è nei fatti che la soluzione non può essere una discarica all'interno del parco della Spromonte, non può essere una discarica che da quelle che sono i documenti e le cose attestate nelle dichiarazioni del sindaco metropolitano, si parla di 90.000 tonnellate di scorie, si parla nella mozione che noi come gruppo da dicembre avevamo posto all'attenzione del Consiglio Comunale, era quella di non un no ideologico, mai per un no ideologico a un qualche cosa, perché naturalmente va conosciuta, approfondita, bisogna anche informare e partecipare alla cittadinanza. Quindi quello che abbiamo detto noi è che qualora questa cittadinanza, questo territorio doveva essere rappresentato nelle sedi preposte, doveva essere informato, doveva essere partecipato e a questo territorio doveva tornare un qualcosa quantomeno di beneficio, una royalty, il controllo del funzionamento, un attenzionamento delle forze dell'ordine, perché è una parte del territorio dove particolarmente bisogna che le forze dell'ordine attenzionino questa discarica, cosa ci andrà dentro, come sarà gestita, da chi sarà gestita, se ci sarà un ritorno anche occupazionale per i nostri concittadini. Quindi erano così tanti e tali questi aspetti importanti che abbiamo trovato noi una scorrettezza, se mi si è permesso, dolosa, può darsi che sia stata dolosa, di non andare nei tavoli dove noi dovevamo dire la nostra, dovevamo partecipare alle nostre perplessità e dire che cosa si va a fare. Si bonifica quell'area, si bonificano le aree circostanti dove ci sono cittadini che ci abitano, ci sono attività commerciali, coltivazioni di pregio, c'è la pastorizia, ci sono le falde acquifere, c'è tantissimo, quindi noi abbiamo trovato scorretto e obiettivamente un modo di scaricare le problematiche della città di Reggio su un territorio che benefici non ne avrà, al momento avrà solo dei danni. C'è chi avrà benefici e chi invece dovrà un po' subire. Comunque c'è questo incontro, è stato annunciato un incontro su questa discarica e quindi lì magari si potrà capire meglio quali sono le determinazioni future, anche se il Reggio Calabria sta andando avanti come un treno, quindi l'apertura della discarica su questo sembra non esserci dubbi. Adone Pistolesi, scuole, parliamo di scuole, sono appena iniziate le scuole, in qualche modo l'anno scolastico è partito. Le scuole si poteva fare assolutamente di meglio per quanto ci riguarda, ci sono stati 6-7 mesi di lockdown, da marzo si poteva programmare meglio. Sul fatto cosa ha fatto rinascita per Bagnara? Rinascita per Bagnara ci tengo a dire che non ha, oltre le interrogazioni sulle problematiche, quasi sempre senza risposta, oltre le mie andate in prefettura, con la corrispondenza che ho avuto fino a ieri con il capo di gabinetto, il dottor Oteri, e mi rammarica non aver avuto alcuna attenzione al momento sulle problematiche che abbiamo portato su quei tavoli a due prefetti, alla sua eccellenza di Bari e alla sua eccellenza Massimo Mariani. Quindi noi ci siamo mossi a tutti i livelli, e aggiungo cosa che non ho né detto né scritto pubblicamente, e quindi lo dico oggi, sulle scuole, noi abbiamo preparato un report sulle scuole di tutta la situazione scolastica, ma non l'abbiamo inviata alla città metropolitana, tantomeno in prefettura dove già era una conoscenza, ma è informato il Ministero direttamente. Io non annuncio nulla perché non mi piace la politica degli annunci, io sono pragmatico, noi siamo per le cose concrete, una cosa se si fa nel momento in cui l'avete realizzata, se no sono solo annunci che sono di un'altra politica, che non ci appartiene. Per quanto riguarda gli annunci, in Consiglio Comunale è stato annunciato un milione di euro dalla protezione civile, per quanto riguarda la strada di Cagili, poi c'è il finanziamento del porto ed altre cose, il recupero del finanziamento per quanto riguarda la scuola Morelli, insomma l'amministrazione comunale lavora da questo punto di vista. Io ripeto, sono per le cose, una volta che i lavori verranno regolarmente appaltati, seguiti a perfetta regola d'arte, con una direzione dei lavori attenta su come dovranno essere realizzati i lavori, e portati a termine, perché a me interessa poi vedere un'opera completata, finita, io sarò contento per la cittadinanza, assolutamente non è un fatto politico a prescindere, ma andrei cauto, anche perché come ha detto nel Consiglio Comunale il consigliere indipendente Dominici, anche su quelle scelte, su alcune scelte si poteva fare ben altro, che andare a mettere, non tanto in sicurezza, ma a dare una rivisitazione estetica, un macchiage al lungomare, che sicuramente è importante in un paese turistico e quant'altro, ma per quanto ci riguarda, diciamo una cosa ovvia, viene prima l'acqua nelle abitazioni, un funzionamento adeguato dei servizi primari, la spazzatura che venga, i servizi relativi a questa, che vengano offerti, per come è previsto nei capitolati e nei contratti, alla cittadinanza, quindi vengono prima i servizi primari, perché possiamo essere accoglienti quanto si vuole, una bella via marina, ma se non abbiamo quelle che sono l'essenza dello stare bene di un concittadino, che va prima di ogni cosa, la prima cosa che noi dobbiamo guardare ai nostri concittadini, a chi paga tasse e tributi, dare i servizi primari alla cittadinanza, quindi scuole, i servizi primari efficienti, l'acqua, e tutto quello che sappiamo, il sistema fognario, l'illuminazione, che anche lì ci sarebbe da dire, perché l'illuminazione sì, ha avuto, l'assessore al bilancio ha detto che abbiamo risparmiato 300 mila euro, 300 mila euro di qua, altri soldi di là, non capiamo dove sono andate a finire questi centinaia di migliaia di euro, tali da dover necessitare un aumento ulteriore dell'Imo, e anche sull'illuminazione abbiamo detto all'epoca, che è stato sottoscritto un impegno, per nove annualità, con una ditta esterna, e quindi poi per un problema di una lampadina, di un'emergenza, o come è stata quella vergognosa, indegna, di sette mesi senza energia elettrica, un quartiere intero a Calcara, non si può, perché noi abbiamo un elettricista, pagato dai cittadini, che sa fare il proprio lavoro, e dovremmo impiegare al meglio quelle persone che hanno le capacità di poter offrire i servizi nei tempi immediatamente necessari, perché se no qui la gente chiama per delle lampadine, dobbiamo chiamare un call center a Roma, e poi questo deve, non va così, per quanto mi riguarda è stata una scelta anche sbagliata. Rinascita per Bagnara in questi tre anni ha battagliato su tutti i fronti, ma a tre anni e dopo questo rimpastino, questo rimpasto, questa sostituzione di un assessore, è cambiata qualcosa, voglio dire, c'è qualcosa di positivo, che non c'è nulla, Rinascita non riesce a trovare nulla di positivo nell'attività e nell'azione di questa amministrazione comunale. Allora, sul fatto della nostra azione politica, noi non abbiamo mai offeso con le nostre richieste l'amministrazione, doveva essere il contrario, doveva essere un'amministrazione, un partito democratico che gestisce, che gestiva la conduzione di questa amministrazione quando si presentò, non più da parecchio, ormai doveva ascoltare legittimamente le istanze, i suggerimenti, se c'erano anche le denunce, ma tutto questo fa parte del gioco democratico, quindi se noi scrivevamo e scriviamo decine e decine di interrogazioni, lo facevamo per poter attenzionare le problematiche, per poterle discutere insieme, per poter vedere quale poteva essere lo strumento migliore per poter affrontarle, non siamo mai offesi nessuno, fa parte del gioco democratico, in maggioranza di opposizione. Forse non si era abituati da tanto tempo ad avere una forza politica libera da segreterie, da partite e quant'altro, che facesse quello che è dovuto. E sui problemi, tanto per dirne un'altra, tre commissioni consigliari, che dovrebbero essere quelle che preparano i lavori di un Consiglio Comunale, due su tre non sono state più convocate da luglio 2017. Quindi di cosa parliamo? Non si può dire poi che rinascere per bagnare e per il no a prescindere. Si può dire che un'amministrazione è stata per il no ad ascoltare dall'inizio. Legittimamente una forza consigliare che è stata eletta, ha perso le elezioni democraticamente, ma doveva avere sicuramente ascolto e condivisione sulle problematiche, nulla di più. Sull'altra problematica che mi aveva detto, se mi può... Perché... Qualcosa di positivo in questa amministrazione o non ha tre anni, rinascita ancora, non riesce a cogliere nulla? Di positivo c'è che tre componenti di pregio di questa amministrazione che avevano creduto in quel progetto si sono ricreduti e hanno compreso che quello che si diceva all'epoca non era un sogno, perché io e ritorno lì ai tempi preelettorali c'è stata una visione legittima e differente di chi oggi è uscito e ci diceva a noi noi dobbiamo entrare in questo progetto di bagnare bene comune per ribaltare il tavolo dall'interno. Nei fatti parlo nei fatti non parla quello che sto dicendo io parla che tre figure di assoluto rispetto di pregio di capacità di competenze sono state via via messe alla porta. Quindi vuol dire che di buono c'è che si è compreso che quel progetto per come si è visto anche nella coalizione che oramai ha preso una fisionomia di destra di centrodestra era sbagliato e non ha portato nulla di buono per il paese. Guardiamo per un attimino al futuro stiamo andando a chiudere questa intervista guardiamo un attimino al futuro presumibilmente con questo assestamento avvenuto all'interno della maggioranza non dovrebbero esserci scossoni da qui in avanti quindi dovrebbe navigare tranquillo verso la fine della legislatura. Nel paese è nato nasce qualche movimento politico per associazionistiche politiche insomma si cerca di organizzare qualcosa rinascita per Bagnara donne pistolesi e che il futuro qual è? Qualcuno dice che è arrivato il momento della proposta che è arrivato il momento dell'aggregazione che è arrivato il momento per rinascita per Bagnara di cimentarsi sul campo e di prospettare un'altra via rispetto a quella che in questo momento la maggioranza sta portando avanti è arrivato questo momento per adone pistolesi o ancora non sono maturi i tempi? Diciamo che è una domanda importante questa che non sfugo sicuramente diciamo che questa nostra esperienza naturalmente che ci ha arricchito e ancora ce n'è da da conoscere da approfondire è un punto di partenza naturalmente dove si parte da dei gruppi riprendiamoci Bagnara e articolo 1 Bagnara Aperta dove per quanto mi riguarda devono essere la continuità certa quindi si parte da alcuni riferimenti di figure di giovani che erano alla base di quel convincimento di fare quella scelta politica di candidarmi e sono certamente nella prospettiva di questo paese quindi ci sono delle basi sicure di riferimento naturalmente qualora si confermasse un progetto a divenire deve essere arricchito di contenuti se ci possono essere delle figure che non siano solo dei bacini di voto perché obiettivamente capisco che le elezioni poi si vincono con i grandi elettori così vengono definiti con i bacini di voti di questo di quello ma tutto questo fallisce se non c'è non ci sono i contenuti se non ci sono le figure che possono rappresentare un nuovo progetto se non ci sono le competenze perché ce n'è bisogno e abbiamo visto che ce n'è bisogno di tanto se non c'è la presenza anche fisica partecipativa perché il rischio è quello poi di restare poche persone e in pochi anche con la buona volontà l'impegno l'onestà e tutto il resto non si riesce ad uscire dalle secche nelle quali ancora oggi il paese si ritrova ma tutto questo con Adone Pistolesi leader con Adone Pistolesi candidato a sindaco o come qualcuno sussurra o come altri che vorrebbero un po' mettere da parte questa leadership ma questo è capitato all'epoca la mia scelta è stata una scelta collegiale condivisa maggioritaria il problema non è il problema perché come ben sa noi nel programma avevamo e lo abbiamo fatto anche se purtroppo di due anni non ne sappiamo nulla delle nostre indennità sono scomparse anche le nostre indennità del 2017 e 2018 ma erano pochi soldini che noi abbiamo donato per come avevamo detto e a proposito di questo parlando anche in una situazione emergenziale come questa parlando dell'Imu perché io penso lì al cittadino che deve pagare in più quelle 8 euro ogni 100 e io non capisco perché non si potevano prendere dall'indenità dove ad oggi più o meno saranno 220 mila euro che questa amministrazione ha preso in base ai gettoni di presenza per il resto più che il nome è importante non il contenitore ma quello che ci mettiamo dentro ci sono stati incontri ci sono stati incontri nelle scorse settimane con delle associazioni con dei gruppi ma io sono stato invitato in un locale pubblico ma nulla di più so che c'è tantissimo fermento ci sono nuovi movimenti il problema è sempre quello perché la politica è fatta di atti di azioni di teatrini o di strategie come le hanno chiamate un ultimo consiglio comunale il problema è che chi fa un nuovo gruppo legittimamente ponendosi sulla scena politica legittimamente del paese deve pensare se c'è già un qualcosa che ha dato veramente ha dato tutto se stesso al paese se può questo nuovo passo pregiudicare veramente il cambiamento perché poi la fermentazione nella divisione quasi sempre sta bene a chi vuole restaurare quello che continua ad essere una politica non fatta sui temi sul come affrontarli e come condividerli nella loro soluzione ma sul vincere e poi se ne parla l'ultima domanda cambia qualcosa adesso dopo questo consiglio comunale dopo questo assestamento che ha portato ad un allargamento di fatto della maggioranza cambia qualcosa nella strategia di rinascita per Bagnara o si continua in questa opposizione cosiddetta intransigente l'opposizione intransigente è una lettura che io posso accettare perché è legittima da chi la fa ma parliamo sempre delle problematiche e se questo vuol dire che non so se la domanda è rivolta agli indipendenti la domanda è rivolta a rinascita che deve guardare o che potrebbe guardare a questi a questi fuoriusciti per esempio ecco ai fuoriusciti dalla maggioranza che potrebbe anche guardare nel paese per cercare di allargare un po' il proprio bacino di utenza diciamo tra virgolette e poi rilanciarsi in un'eventuale nuova battaglia elettorale le tre figure che sono uscite fuori da Bagnara Benecomune con delle scelte che sono state in questi tre anni poi motivate non sono abituato a un discorso né di campagna acquista anche perché le persone di cui parliamo hanno dimostrato una tale capacità di libertà di indipendenza di critica che sicuramente sono tutte diciamo delle cose che sono un pregio di queste figure quindi sicuramente mi potrei ritrovare o si potrebbero ritrovare in una nuova idea in un nuovo progetto e questo si vedrà in futuro se ci saranno le condizioni noi siamo aperti a qualsiasi a qualsiasi nuovo ingresso naturalmente che condivida l'impostazione del modo di fare politica e di essere rappresentanti della cittadinanza Bene noi chiudiamo qua ringraziamo Adone Pistolesi per questa sua partecipazione nei prossimi giorni contatteremo altri esponenti del Consiglio Comunale sia di maggioranza sia di opposizione proprio per far capire a chi segue a chi segue costaviolanews.it dove sta andando la politica bagnarese a chi segue a chi segue Grazie.